Nessuno ha mai messo in dubbio, mi sembra che ci sia sempre stato il supporto di tutto il Parlamento, del mio partito, verso qualunque iniziativa che sia avvolta in maniera non vessatoria a ricostituire un rapporto di fiducia tra contribuente e fisco. Beh sì, Befera ci ha detto di un recupero nel 2011 di 11,5 miliardi, però ha parlato anche di un aumento dei rimborsi relativamente agli accertamenti, superiore al 60% dal 2011 al 2010, ci ha illustrato come gli strumenti che questo governo, ma anche il governo precedente, hanno dato, perché parliamo degli anni 2010-2011, hanno consentito un'azione decisamente più incisiva, ha anche parlato dei cosiddetti episodi di violenza o comunque di minaccia nei confronti di Equitalia, ha parlato di 250 episodi, di cui 70 solo a gennaio di quest'anno e ha chiesto naturalmente l'aiuto del Parlamento sia per supportare questa diciamo rivoluzione culturale che deve portare a comprendere che non è certamente facendo i furbi che si fa all'interesse del Paese e anche ad aiutarli probabilmente relativamente alla disposizione di persone per gli accertamenti. La mia sensazione è una sensazione assolutamente positiva, grandissimo plauso a questa attività, lo Stato sta facendo, lo Stato deve naturalmente impegnarsi anche su altri fronti, penso ad esempio ai crediti che gli imprenditori maturano nei confronti della pubblica amministrazione e che lo Stato deve onorare. Grazie a tutti.